Franco Andrioli, sindaco di Statte, oggi è il gran giorno ma facciamo un salto a 25 anni fa. Quanta acqua è passata sotto i ponti e cosa vuol dire per Statte l'autonomia? Oggi non è un primo maggio normale per Statte, è passato un quarto di secolo da che siamo diventati autonomi. Credo che qualche differenza la ci si vede, eravamo legati al cordone umbilicare di Taranto, finalmente la Lega degli Stattesi iniziò questo lungo procedimento che si è concluso nel 1993 con un plebiscito, Statte diventa autonoma e comincia a crescere pian piano, staccandosi da Taranto con tutti gli errori che sono stati commessi, questo bisogna ammettere, ma pian piano Statte è cresciuta, è sotto gli occhi di tutti, un'evidenza normale, continueremo a lavorare affinché il Paese cresca. In Paese stiamo dando dei servizi primari ancora alla gente, quindi io mi auguro e spero che con la collaborazione dei cittadini soprattutto, perché un'amministrazione senza la collaborazione dei cittadini non va da nessuna parte, i cittadini, il 90% sta già collaborando ampliamente con l'amministrazione, siamo aventi degli ottimi risultati, auguri Statte!